Ciao a tutti ragazzi, qui è vostro Silicon92 e ci ritroviamo oggi in un nuovo video su Warzone Allora ragazzi, nel video di oggi vi mostrerò la mia prima vittoria nella nuova modalità in coppia Se ancora non l'avete provata, cosa che dubito, in questa modalità ci sono molti cambiamenti Questa modalità rende Warzone finalmente molto più competitivo Quindi le persone che hanno delle buone skill riescono a arrivare in fondo Non con la fortuna come molte volte capita in Warzone nella modalità normale Solo per dirvi un po' cosa cambia questa modalità Allora, prima cosa, il loadout non cade Tutti gli elementi che andate a comprare agli shop hanno dei prezzi maggiorati Soprattutto il loadout costa ben 15.000 Quindi capite bene che questa modalità è molto difficile A parte queste cose, la salute è stata aumentata a 400 totale con le piastre 250 normale più 150 di piastre Quindi potete dedurre che per mettere a terra un nemico ci vogliono molto più colpi Quindi il time to kill è aumentato Per questa modalità io vi consiglio di utilizzare dei mitraglioni con molti colpi E delle mitragliette tipo il PPSH o il bullfrog che hanno molti colpi Purtroppo non vi mostrerò la classe che ho utilizzato Perché ho trovato delle armi da terra molto buone Ho trovato uno stoner settato E l'XM4 verde che trovate a terra Ho finito la partita così e è arrivata la vittoria con il mio amico ArtX Quindi ragazzi vi lascio al video Mi raccomando abbonatevi al canale e attivate le notifiche Ci vediamo in game Bella wayo No questa è nascosta nell'herba Ma va va Nascosta nell'herba C'hanno già le armi No questa è nascosta Oh hanno rotto un vetro Arrestato Sto girando a destra Ho fatto uno, l'altro è craccato qua dietro Qua dietro al trucco è una cosa bella Ha fatto il giro a sinistra Se n'è andato Se n'è andato Sì sì ho visto Fatto C'è una porta rossa sotto da me Ah mi sa che escono qua Mi sa che escono qua Sì eccoli Qua qua Fatto era solo Era solo Ho uno qua Due qua Si è nascosto sotto qua Eccola Atterra E' uno solo Mi sa Fatto Sì 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 Ci sono quei due al bar Beh Dai dai vieni qua Vieni qua Eh vaffanculo Devo andare a noi Come facciamo? Facciamo nascondere sotto al bar qua O Non lo so Uno sta sul tetto Gli sparano Gli sparano Craccato Nascondiamoci qua sotto al ponte Forse Qua così Eh no Non va bene qua Gli sparano Gli sparano Gli sparano Gli sparano Gli sparano Gli spi Gli sparano Che C'azè La victory N'est'i non La guess avance On doit rejonitE la zone de securite Sono qua sobra Non c'ho una Ok, ne restano uno, uno, uno Stava qua da me Eccolo, nel gas Ah, annullare, acquittare Grande Luca, buona la prima Non ho preso neanche le mie armi, ho preso le armi da terra